Cari bambini, conoscete la lettera X? X come Xilofono, X come Xrei, X come XL, X come Xilitolo. Così è troppo veloce Proviamo a riniziare da capo Cari bambini Conoscete La lettera X X come xilofono X come x-ray X come x-l X come xilitolo X come xilofono X come x-ray X come x-l X come xilitolo Ora si andava bene Vi siete divertiti anche voi a cantare con me?